Conosci Firenze. Un nuovo e appassionante racconto insieme a noi. Questa affascinante fotografia di una famiglia degli anni 20 cattura un momento prezioso sul piazzale Michelangelo, uno dei punti panoramici più celebri di Firenze. L'atmosfera dell'epoca è ben rappresentata dagli abiti eleganti e dal portamento dignitoso delle persone ritratte. Sullo sfondo si può ammirare la splendida vista della città, con il Duomo di Firenze che domina l'orizzonte. I lavori per il piazzale Michelangelo iniziarono nel 1869 dall'architetto Giuseppe Poggi ed è da sempre un luogo amato da residenti e visitatori per la sua vista sulla città. Conosci Firenze. Un nuovo e appassionante racconto insieme a noi.